C'è una ragione particolare che ha condotto il team che segue il progetto SOS Archivi in seno all'Associazione di Mori Storiche di scegliere Palazzo La Marmora come case history per questo video. La ragione è che questo palazzo ha alcune caratteristiche che lo rendono praticamente una palestra adatta al risk assessment. Perché? Perché è composto di ali differenti, costruite in epoche diverse, collegate tra loro in momenti separati e che hanno subito manutenzione in modo assai differenziato nel corso del tempo. Questo offre una serie di casi e di occasioni e di tipologie diversificate che permette agli studiosi e agli esperti di applicare la metodologia della certificazione del rischio in modi differenti. Palazzo La Marmora è anche utile a questa trattazione sulla prevenzione del rischio per un'altra ragione. Come io credo molti altri edifici nel campo delle dimore storiche italiane, nel corso del Novecento gli sforzi della proprietà per mantenere questa grande proprietà si sono rivolti soprattutto agli alloggi e in genere alle funzioni legate alla vita quotidiana. Mentre è avvenuto che quelle parti dell'edificio che erano state costruite per ragioni di prestigio, in questo caso una torre, un ninfeo o una facciata di particolare pregio sono state dimenticate oppure forse meglio si è trascurato, si è rimandato e così di decennio in decennio questi elementi importanti e decorativi ma diciamo così, per usare una parola forte, superfui rispetto all'uso quotidiano hanno subito un degrado elevato. E' per questa ragione che in questo video ascolteremo Paolo Gasparoli che ci parla delle facciate, Lorenzo Iurina che ci parla della torre dei Masserano e Andrea Bassoli che ci parlerà del progettato intervento sul ninfeo. La facciata di Palazzo della Marmora fu progettata da Filippo Castelli e realizzata tra il 1789 e i successivi tre o quattro anni. A commissionare quest'opera significativa a questo architetto fu Celestino Ferrero della Marmora, il padre dei generali. Fino a quel momento il palazzo non aveva una facciata e quindi il suo aspetto dall'esterno si confondeva un po' con le altre zone del borgo. Questa facciata da quando era stata costruita non aveva mai subito un intervento di restauro e quindi si presentava nel corso degli ultimi anni in una situazione abbastanza ammalorata. Risale al 2003 un mio primo contatto con la ditta Gasparoli per studiare e cominciare a riflettere sul restauro di questa facciata che fu poi eseguito, ne parla Paolo Gasparoli. Per ricordare il passato ci siamo conosciuti nel 2003 e da lì abbiamo cominciato a ragionare sul tema delle facciate di Palazzo La Marmora che abbiamo trovato in condizioni di degrado piuttosto avanzato ma che si trova in condizioni anche di testimoniare un'autenticità che si era conservata nel tempo proprio perché non sono stati fatti interventi né, peggio ancora, interventi invasivi che potevano mettere in crisi diciamo il principio del restauro. Ora il restauro è consistito appunto in una impegnativa operazione di consolidamento della materia storica che si era conservata e di integrazione intelligente, diciamo, delle parti mancanti per riconfigurare dal piuttosto architettonico cioè ridare godibilità ecco e completezza all'intervento però con una logica che da una parte era diretta alla conservazione della materia storica dall'altra ad una integrazione che avesse carattere di compatibilità tecnologica figurativa ma non imitativa cioè che il nuovo insomma in qualche misura fosse visibile e distinguibile ecco rispetto all'esistente, alla materia storica. Mi pare che sia... che l'intervenzione ha concluso con un aspetto anche di piacevolezza non so, di godibilità estetica che in questi casi non guasta ecco per ridare lustro non riportare al primitivo splendore perché sappiamo tutto che è impossibile far tornare indietro le lancette della storia però dare dignità e bellezza a un edificio che è uno degli edifici più importanti di quest'area del piazzo di Biella ecco nicht ok 2 2 3 4 4 5 Grazie a tutti.